Dal 2012 ad oggi all'interno del carcere di Castronio a Teramo si sono verificati 5 casi di suicidio e diversi tentati suicidi, questi ultimi fortunatamente sventati dalle guardie penitenziarie. E' importante dunque fare prevenzione così il direttore della casa circondariale Stefano Liberatore e il direttore dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano hanno siglato un piano comune operativo per il pronto intervento e la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti. Come si fa in un carcere a prevenire il suicidio? Questa è una domanda molto difficile, come si fa? Si fa attraverso strategie di comportamento partecipato, attraverso una cooperazione tra tutti gli operatori penitenziari istituzionali, paraistituzionali che insieme con tutte le loro forze trovano gli accorgimenti necessari per cercare di contenere, forse la parola giusta è contenere questo disagio che purtroppo esiste e esisterà sempre. Uno dei punti salienti dell'accordo firmato tra ASL di Teramo e casa circondariale di Castronio è quello della creazione di uno staff multidisciplinare in grado di prendersi cura dei soggetti che manifestano intenti autolesionistici. E' l'ASL infatti che gestisce il presidio sanitario del carcere teramano attraverso una specifica unità operativa diretta da Massimo Forlini. Questo protocollo è solo l'ultimo atto, già nel passato c'è stata tanta attenzione ovviamente su questo argomento, anche perché in carcere gli atti di autolesionismo che spesso sono non l'espressione di una malattia psichiatrica o di un disagio vero e proprio, ma qualche volta, anzi spesso direi sono legati alla ricerca dell'attenzione da parte dell'ambiente ovviamente dove si trovano, perché spesso il detenuto ovviamente si sente abbandonato, spesso lo è dalla famiglia, e quindi cerca una maggiore attenzione attraverso questi gesti. Adesso delle decisioni verranno prese coralmente attraverso questo staff multidisciplinare che si riunirà periodicamente in base all'osservazione che viene costantemente effettuata sui vari detenuti.